Auditorium dello Spirito Santo al limite della capienza in questo periodo di restrizioni da coronavirus per il concerto del duo composto dal violinista Giuseppe Coniglio e dal pianista Sergio Coniglio. Manifestazione organizzata dal Conservatorio Torre Franca di Vibo Valenze da Ama Calabria, inserita nell'ambito del cartellone dei concerti del giovedì Unite per la città anticipatamente interrotti a causa dell'emergenza Covid-19 ed ora ripresi. Un duo particolare è questo perché è formato da padre e figlio con il pianista Sergio, docente del Conservatorio Torre Franca ed apprezzato concertista di livello internazionale, ed il violinista Giuseppe Allievo dello stesso conservatorio che si avvia ad una promettente carriera di musicista e concertista. Interessante e complesso il repertorio affrontato dal duo che ha spaziato nel tempo con l'esecuzione di alcuni capolavori del repertorio da camera per violine pienoforte nella prima parte, come la sonata K301 in sol maggiore di Mozart, la sonata in la maggiore di Cesar Franca e vocalist di Rachmaninoff, momenti particolarmente impegnativi dal punto di vista dell'interpretazione artistico strumentale. La seconda parte del concerto è stata incentrata invece su alcuni brani che caratterizzano la musica contemporanea, soprattutto quella legata alle colonne sonore di alcuni tre film più importanti e vincitori di Oscar. Si è passati da Astor Piazzolla con la sua Ave Maria e poi Oblivion, colonna sonora del film Enrico IV di Marco Bellocchio, quindi un interessantissimo Midley che ha assemblato in piacevole sequenze colonne sonore da Oscar con le melodie di John Williams dal film Schinders List, Luis Bacaloff dal film Il Pustino di Neruda, Andrea Morricone dal film Cinema Paradiso, Harry Mancini e l'indimenticabile Evergreen Moonriver dal film Colazione da Tiffany, per concludere con Ennio Morricone e lo straordinario tema dal film Mission. Pubblico letteralmente rapito da melodie eseguite con classe e passione, ancor di più quando, per il bis richiesto, il duo Sergio e Giuseppe Coniglio ha proposto il premio Oscar a Nicola Pievani con la coinvolgente La vita è bella. Per lo�� del film Per loible del film Grazie a tutti.